Siamo alla fine di questa sera, queste 30 ore per la vita, una manifestazione a livello nazionale importantissima che ogni anno si prefigge, come sapete, di aiutare chi ha bisogno. Quest'anno tutti i fondi che vengono in ricavato della vostra generosità vengono dati all'Associazione Italiana contro le leucemie. Lo slogan di questa manifestazione è ogni aiuto è grande quando fiorisce un piccolo gesto contro una grande malattia. Dobbiamo ringraziare però naturalmente le poste italiane che è la filiare della Spezia che ha organizzato, ha dato la possibilità in pieno centro di poter organizzare questa manifestazione. In collaborazione con il comune della Spezia e il comando in capo della marina militare dell'Alto Tirreno. Iniziamo subito questa serata con i Four Steps Quaia. Il territorio è il solito per chi ci conosce, per chi ci segue. Lo dedichiamo all'America in generale. Cominciamo con un grande stand americano che è Bevelen, poi passiamo all'America Latina, un omaggio all'America Latina con Brasil, poi andiamo all'America Nera, Brasil. E quindi finiamo, buon ascolto, con il Four Steps Quaia. Buon divertimento a più tardi. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Viste il mio marito Pietro, Donatella, Nadia che l'ho presentato in Aquarius. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.